Ragazzi, ci siamo! Non faccio nemmeno l'intro perché l'intro la faremo stasera in live alle ore... 20 e 30! Bravissima! E anche Mirtillo ci sarà? Sì, sì, c'è, c'è! Ma non solo Mirtillo, ragazzi, tutta la Multicore Community sarà qua con noi per distruggere quei signori laggiù. Non ho reso la cosa difficile a loro, perché saremo in tanti, ma anche a noi, perché voi non capite... Cioè, allora, ho fatto questo... Eh... come posso dire? Spazio! Questo spazio per il combattimento, sì, spazio per il combattimento, e sarà pieno i trabocchetti e passaggi segreti anche per noi, eh? Quindi, ragazzi, sarà una cosa etica... Dove io cadrò di sicuro, anche se li ho visti. Esattamente, ragazzi, perché sarà difficilissimo, perché mentre stai combattendo quei tre cosi, non puoi pensare alle cose che troverai qua. Perché, ovviamente, facciamo la live stasera. Stasera, ragazzi, per la prima volta saranno aperte le donazioni, non ovviamente per noi, ma per il progetto Kairos della comunità Il Simbolo di Pisa, dove raccoglieremo soldi per far vivere esperienze ai ragazzi meno fortunati di noi. Facciamo una buona azione ogni tanto che ne vale davvero la pena. Quindi, vi aspettiamo stasera alle 20.30. Da Mini e Mini è tutto. In Gialo Studio. Ciao, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.